Franco Falocco, impermeabilizzazioni e coibentazioni civili ed industriali. L'impresa Franco Falocco lavora con sistema di qualità certificato ISO 9001-9002, isolamento termico, rifacimento della pavimentazione, coperture piane, coperture inclinate, tetti ventilati. Passione, capacità professionali, manageriali, fanno di Franco Falocco una delle migliori aziende del settore. Pagina sportiva del lunedì, ben trovati, si ferma a Castelrigone il cammino di otto vittorie consecutive del Perugia che viene battuto dalla formazione di Cucinelli con il punteggio di 2-1, ma ora il calendario offre un'opportunità alla formazione bianco-rossa a tre gare per recuperare la vetta della classifica in una settimana. Non è stato il solito Perugia quello che a Castelrigone ha perso la vetta della classifica, ma quella dei lacustri si può definire comunque l'impresa di giornata, visto che il grifo era reduce da otto vittorie consecutive. La squadra di Battistini ha forse risentito il doppio impegno ravvicinato, ma più di tutto l'assenza di uno dei suoi uomini migliori, il difensore Cacioli, messo a capo da un infortunio piuttosto serio. L'ha sostituito Taccucci, a cui forse serviranno due o tre giornate per raggiungere la condizione ottimale, forte dell'esperienza della scorsa stagione. Ma le cose non sono funzionate nemmeno in mezzo, dove Borgese e Mocarelli hanno giocato una partita sotto tono. E così che Castelrigone ha potuto costruire la vittoria, in difesa non ha sbagliato un colpo, mentre davanti, sostenuto da un De Luca sontuoso, ha capitalizzato al meglio le occasioni da gol. Al trentasettesimo è stato Tranchitella a sbloccare il punteggio, ma l'azione nasce da un errore a centrocampo del Grifo con Borgese che si fa soffiare il pallone. Errori appunto come quello di Enrico Bartolini, che sette minuti prima si divora l'1-0. Nella ripresa i lacustri resistono e a cinque dal termine raddoppiano con uno splendido gol di Zuppardo. Il Grifo però ha sette vite e accorcia subito con Bartolini su cross di Frediani e nel recupero sfiora il clamoroso pareggio. A fine partita, fair play di Cucinelli e risposta secca del presidente Damaschi. Noi non abbiamo nessunissima intenzione di andare in Serie C per il Paese, per la volontà personale mia, perché io voglio fare questo calcio qui fatto in un modo veramente molto dilettantistico, altrimenti se volevamo fare una cosa molto forte forse avremmo aiutato i ragazzi del Perugia. Devo dire la verità, io mi sono emozionato all'inizio quando ho visto tutti questi ragazzi lì sui spalti, perché qui non c'è mai nessuno, quindi è il Paese dove sono nato. Una bella partita correttissima e basta. In generale viene detto che il Castarricone è una squadra di tifosi del Perugia, una squadra che augura al Perugia di salire le categorie. È una squadra che legittimamente cerca di impedire al Perugia, ripeto, legittimamente, hanno tutto il diritto, un'altra squadra, un'altra matricola federale, cerca di vincere il campionato al posto del Perugia. Andiamo a vedere le pagelle del Perugia, certamente non è stata una giornata brillante, soprattutto per i centrocampisti che hanno risentito del doppio impegno infrasettimanale. I migliori in campo Benedetti e comunque Goretti in difesa, ha sofferto anche Radi, mentre davanti Fiordiani ha deluso, Bartolini ha fallito il gol dell'1-0, anche se è parzialmente riscattato nel finale con il gol che ha riaperto la partita. Mercoledì si torna in campo contro la Voluntas Spoleto, ma andiamo in prima divisione perché il Gubbio continua a sognare. Ieri era atteso a una prova del 9 in quel di Pagani, prova del 9 ampiamente superata, vittoria per 2-0 e mercoledì nel recupero sfida al primo posto contro il Sorrento. Il Foligno invece gioca bene, fallisce palle e gol clamorose, ma esce sconfitto da Benevento, non segna il Foligno da ben 4 domenica. consecutive. Il Gubbio non avrebbe voluto sfidare il Sorrento senza l'opportunità di superarlo in classifica, ma per farlo doveva vincere al Marcello Torri di Pagani un campo certamente non facile, ma per i ragazzi di Vincenzo Torrente non ci sono più aggettivi, dato che sono bastati 5 minuti per ipotecare una vittoria sulla carta difficile. È stato Gomez, in versione centravanti, a regalare i tre punti alla squadra rosso-blu in un primo tempo praticamente perfetto. L'argentino apre le danze al ventesimo con uno splendido colpo di testa su cross di Boasferra, 5 minuti dopo. Il puntero concede il bis, questa volta dal suo repertorio. Estrae un gran tiro di sinistro che strappa gli applausi anche al pubblico di casa, anche perché la Paganese non riesce a reagire e lascia il pieno controllo del match ad un Gubbio che nella ripresa controlla la situazione e va più volte vicino al Tris, tanto da permettere a Torrente di guardare già la prossima sfida col Sorrento con la sostituzione del diffidato Galano. Chi invece non riesce a risolvere i suoi guai è il Foligno, che a Benevento gioca pure discretamente, ma non riesce ad evitare l'ottava sconfitta in campionato. Preoccupa la sterilità del reparto offensivo, che dopo lo scoppiettante avvio di stagione non va in gol da quattro domeniche. Al Santa Colomba ci si mette poi l'inizio Fulminio e dei locali, che già al quinto sono in vantaggio con la rete di Danna. La squadra reagisce e sembra non risentire dell'avvio di partita in salita e va più volte vicino al pareggio. Clamorosa la palla gol fallita da Biancazzurri al quinto della ripresa, quando il difensore Siniscalchi evita un gol che sembrava fatto, con la mantia che si fa anticipare sul più bello. I padroni di casa non sono un granché, il Foligno però tiene in mano il gioco, ma non riesce a segnare. Inevitabile quindi il raddoppio di evacuo, che quasi allo scadere chiude i giochi, sfruttando l'inevitabile spazio concesso dai difensori Biancazzurri. Per la squadra di Matrecano è ora tempo di riflessioni, la panchina è sempre più a rischio e domenica al blasone. Arriva la Cavesi ultima in classifica per uno scontro diretto salvezza che non si può sbagliare. Chi invece sembra essersi risollevata è la Ternana di Fernando Orsi, che ha liberati Bapte il Siracusa per 2-1. Una Ternana certamente in crescita. Terzo risultato utile per la Ternana. Tre punti, due gol fatti e uno subito. L'uomo in più per il Rosso Verdi è stato sicuramente il pubblico che ha incitato la squadra come non mai. Il Siracusa nelle battute iniziali subisce la determinazione delle fere con Artistico che sblocca il risultato al nono minuto del primo tempo. Il morale è alto, ma il Siracusa non si arrende e trova il pareggio con Mancino appena 20 minuti dopo. Nella ripresa le squadre tornano in campo e al 38esimo Nolè procura un rigore d'oro per il Rosso Verdi, che tornano in vantaggio dopo la zampata vincente dal dischetto di Tozzi Borsoi. È il 39esimo della ripresa ed il risultato resta congelato fino alla fine del match sul 2-1. Mi sembra che la squadra abbia giocato anche bene, abbia aggredito il Siracusa e si è ripartita molto bene. Purtroppo il campo un po' pesante ci penalizza anche nelle ripartenze. Noi siamo una squadra abbastanza leggera, quindi è ovvio che molte volte l'ultimo passaggio non ci viene bene, ci può non venire bene. Però la squadra è stata brava, equilibrata, non ha mai perso le geometrie, non ha mai perso i riferimenti. Il Siracusa ha fatto poco, anche se devo dire che la squadra di Volotti ha dimostrato quello che negli ultimi tempi aveva fatto. Cioè è una squadra importante, una squadra che gioca bene a calcio e sarà un... Da là del filo d'orce da tutti, perché in questo momento mi sembrano delle squadre più in forma. Ed ora torniamo in Serie D, perché la battuta d'arresto del Perugia non ride solamente alla Castelrigone, ma soprattutto alla Todi, che ne approfitta per vincere in casa. Un impegno sulla carta facile e tornare in testa con tre punti di vantaggio. In attesa dell'impegno di domenica prossima e quindi della successiva trasferta al Renato Curi, si recupererà mercoledì 15. Il punto dei campionati di Serie D ed eccellenza con Luca Martelli. Il Perugia a stecca e dopo otto vittorie consecutive cade al San Bartolomeo, dove il Castelrigone conserva l'imbattibilità, vincendo per 2-1 con le reti firmate da Tranchitelle e Zuppardo. Inutile e tardivo poi il gol dei Biancorossi, siglato da Bartolini. Il Todi alla sesta vittoria consecutiva al Franco Martelli, rifila due gol al Deruta, però nullo apre le danze e Mortaro le chiude. Forse a far notizia, il rigore procurato e sbagliato da Tarpani, che alla fine non inciderà sull'andamento del match. Nell'anticipo di sabato, Ponte San Giovanni da Ponte Vecchio passa di misura grazie al gol da Cineteca di Esposito. La Voluntas serve il poker delle contestazioni, successo agevole contro un Montevarchi contestato dai propri tifosi. La formazione di Borrello passa in vantaggio nel primo tempo con Esposito. Nella ripresa ancora il Bomber ad andare in golla, lui susseguono nell'ordine Gangie su rigore e Camiglia la prima marcatura nel campionato di Serie D. A sesto San Giovanni il gruppo ottiene un buon punto grazie al gol di Marinelli, mentre l'Orvietana piega il fanalino di Cona a Monteriggioni con i gol di Giuliano, Cioci e Morasca. In eccellenza rallenta la corsa del Pierantonio imbrigliato dall'ottimo Gualdo. Al vantaggio di Allegrucci risponde a meno 4 minuti dal termine Matarazzi. Seconda sconfitta consecutiva invece per la Tiberis-Monte-Corona che al Bernicchi si ferma di fronte al gol di Giuliacci. Guadagna invece terreno il Trestina che impone la legge del Casini chiudendo sul 2-0 contro l'Angelana. Mancini direttamente da calcio di rigore e Ferri nella ripresa archiviano la pratica. A Colle Pepe la Grifo Ponte consolida la posizione play-off. Blu Cercati in svantaggio e poi capaci di andare in gol con Obamanga ed Anselmi che realizza una rete da capolavoro. Il Bastia dopo 10 turni rivede la luce e Borrelli e Battistelli evitano il peggio e condannano la M98 all'ultimo posto. Nell'anticipo del sabato al Checcarini Cannara riesce a conquistare 3 punti d'oro grazie alla rete di Villocci. Bene anche Nocera è Cassa del Diavolo che di misura si impongono rispettivamente contro Narnese e Juventina. Nel primo incontro decide l'autorete di Vitelli mentre nel secondo è Michele a siglare il gol partita. Ed ora cambiamo sport. La palla a volo dopo la vittoria del Tebrec contro Piacenza si ferma la corsa della RPA Luigi Bacchi.it Umbria Volley San Giustino battuta in trasferta dalla Sisley Treviso ben 23 i match in precedenza tra le due formazioni e 19 le volte in cui la Sisley ha avuto la meglio i pronostici dunque purtroppo vengono rispettati 3 a 1 per la squadra di casa che si impone per 25-22 25-17 trascinata da uno straordinario fei 24 punti per l'opposto Trevigiano in serie a 2 purtroppo perde ancora la Sir Safeti Perugia Volley lo fa in casa contro Sora un 3 a 1 che non ammette repliche che costa la panchina a Pupo Dall'Olio Francesco Dall'Olio il coach che è stato esonerato proprio questa mattina ancora una sconfitta della Sir Safeti Perugia questa volta ad uscire con la vittoria dal palevangelisti è Sora un K.O. pesante che fa scivolare in classifica al terzo ultimo posto Perugia Sora dimostra maggiore continuità e solidità micidiale in attacco con l'opposto Roberts che mette la firma anche sul primo set che si chiude sul 23 a 25 nel secondo i ragazzi di Dall'Olio cercano in qualche modo di riaprire la partita ma commettono troppi errori ospiti che chiudono il secondo parziale sul 22 a 25 i ciociari calano nel terzo e Perugia accorcia le distanze un fuoco di paia perché nel quarto parziale Sora torna a fare la voce grossa e si aggiudica il match al posto di Francesco Dall'Olio Roberto Fant che guiderà il primo allenamento e mercoledì guiderà i ragazzi della Sir nella trasferta di Isernia parliamo anche di Gerardi Cartoedit svicita di Castello che dopo qualche battuta d'arresto è tornata a vincere in casa con il punteggio di 3-1 e resta nelle zone alte della classifica parliamo anche di palla a volo femminile con la Despar Perugia che ha conquistato soffrendo la prima vittoria in campionato in due giornate 3-0 contro Castellana Grotte una devastante Sonia Popovic prende le compagne per mano e la trascina la vittoria analizzando ben 23 punti 25-23 25-23 25-17 parziali in favore di Perugia che tornerà in campo alle 18 domenica prossima in casa della Villa Cortese per cercare poi di abissare il successo di ieri e concludiamo con il basket nella serie a di lettanti perde la testa della classifica non l'aveva mai fatto in questo avvio di stagione l'Aliomatic Perugia che esce sconfitta è la seconda consecutiva sul campo di Senigallia finisce 61-53 per i marchigiani ma c'è una squadra che resta in testa la classifica con ben 4 punti di vantaggio nel basket cioè l'Aliomatic Umbertide tra le donne che ieri ha battuto in casa una delle grandi alla vittoria una delle grandi favorita la vittoria finale si tratta del Kras Taranto per 68-62 una grande partita per l'Aliomatic Umbertide trascinata da una stratosferica Giardini Ballardini autrice di ben 20 punti dunque la Liomatic Umbertide guida con 2 punti di vantaggio su Schio e 4 su Comenze e Faenza e domenica prossima alle 18 giocherà in trasferta sul campo del Pozzuoli ancora fermo a 0 punti in classifica ieri battuto sul terreno del Venezia bene era l'ultima notizia del nostro telegiornale dell'Umbria vi lascio alla denuncia sociale di Pianeta Umbria di Francesca Ricci e vi ricordo stasera il processo di Biscardi dalle 20.30 in poi su Umbria TV a seguire alle 22.40 fuori campo alla vigilia della settimana più importante del girone d'andata del Perugia atteso da tre impegni casalinghi con Voluntas Spoleto quindi il recupero contro il Todi di mercoledì 15 dicembre e l'altro impegno casalingo previsto per domenica prossima è tutto con il telegiornale io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento di giornata grazie a tutti